Io personalmente come spettatore desidero sentire la lingua originale, desidero sentire come parlano perché dà un senso di verità in più, è un valore aggiunto per quello che riguarda il dialetto invece è proprio un altro elemento, è un altro protagonista il dialetto, se avessimo parlato in italiano con un accento veneto avremmo dato un tono di falsità, avrebbe tolto, avrebbe sottratto, invece secondo me questo ha aggiunto qualcosa di vero, che è un po' tutto il sapore e il respiro del film, quello che diceva Paolo prima, che è un film forse un po' anomalo, forse un po' inedito, io credo che questo film ristabilisca un po' dei rapporti, perché in parte ti ha riportato su un piano della realtà, negli ultimi anni c'è stata una iperproduzione di commedie, la commedia bene o male è un punto di vista sì ironico della realtà, ma spesso e volentieri è come se accarezzasse un po' questo desiderio di trovarci dell'ironia a tutti i costi, qua si parla della vita vera e se parli della vita vera mi devi mostrare esattamente come si muovono quelle persone e come parlano quelle persone, quindi la scelta del dialetto è stata fondamentale secondo me, Baffo quello che vedete con Baffone, quello è un pescatore, vero? L'altro con Battiston è uno che veramente fa contrabbando, anzi durante la riparazione del film è andato dai carabinieri e ha detto scusate devo girare un film per un mese, lasciatemi in pace, quindi noi dovevamo mescolarci a loro, quindi la capacità di Andrea e la bravura di Andrea è stata quella di mettere insieme questi due mondi separati e di creare un unico corpo